La filiera dell'acciaio è in un momento un po' di difficoltà, c'è un ciclo economico negativo, tassi di interesse elevati, insomma c'è incertezza. Nel proprio rapporto atteso Mario Draghi ha invitato a migliorare le condizioni di finanziamento per i settori ad alto consumo energetico come quello dell'acciaio. Voi come viper come vedete questo scenario e come vi state attrezzando per supportare le imprese della filiera? Molto interessante, ho trovato il passaggio sui PPA dove c'è uno stimolo a utilizzarli di più e dove la banca chiaramente può fare cose, per esempio in particolari accordi complessi anche garantirli questi PPA o in parte o totalmente. Poi c'è tutto il capitolo dell'autoproduzione di rinnovabili per i soggetti energivori come i produttori di acciaio e molti di loro stanno andando avanti in questo tipo di percorso investendo in progettualità per l'autoproduzione di energie rinnovabili. Cosa può fare la banca? Il project finance se il cliente intende finanziarlo in questo modo e a volte ci può essere un'utilità e un senso a finanziarlo così piuttosto che anche le classiche linee di finanziamento delle CAPEX e degli investimenti che possono essere fatte anche in funzione della durata e del payback dell'investimento. Quindi si può arrivare anche piuttosto lunghi. In questo periodo ci sono anche degli strumenti che mette a disposizione SACE per arrivare fino a 10 anni quindi una combination di banca più SACE può essere per esempio un elemento distintivo per finanziare questa tipologia di investimenti. E sotto il profilo ISG accennava a energia verde quindi sostenibilità dal punto di vista di governance e social come la banca può aiutare le aziende a migliorare sotto questo profilo che ormai sappiamo è sempre più importante per essere sul mercato anche finanziario. È assolutamente vero dell'importanza che dice lei e mi verrebbe anche da aggiungere a maggior ragione nel settore dell'acciaio e della siderurgia dove chiaramente è necessario intraprendere ma tutti o la gran parte lo hanno già fatto dei percorsi di controllo delle emissioni, di riduzione delle emissioni e così via. La banca nostra così come tante altre si sta attrezzando anzi si è già mossa per fare cose. Noi avevamo un plafond di 7 miliardi di crediti diciamo per finanziare meglio di finanziamenti per sostenere investimenti ISG che pensi è già quasi completamente esaurito. Si valuterà poi quindi se ripristinarlo in tutto in parte ma questo significa che la domanda c'è e che quindi abbiamo colto diciamo in modo opportuno quello che era un bisogno del mercato. Poi nel 2023 abbiamo acquistato quasi 3 miliardi 2 miliardi 8 per la precisione di crediti fiscali da super bonus anche questo è una modalità per chiaramente sostenere anche se in modo indiretto investimenti ISG. Siamo finanziatori di alcuni fondi dedicati allo sviluppo di investimenti ISG e da pochi mesi abbiamo lanciato un nuovo prodotto che la banca non aveva che abbiamo chiamato Sustainability Linked Loan e questo prodotto funziona come altri sul mercato in modo tale da dare una premialità sul costo quindi sul tasso di interesse in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi o KPI come li definiamo ISG che vengono definiti e concordati ex ante con l'azienda. Altro tema caldo nel quale la filiera è molto attiva soprattutto negli ultimi anni è quello della verticalizzazione. Joint Venture acquisizioni ne vediamo sempre molte anche voi avete una divisione che si occupa proprio di questo come valuta lo scenario le opportunità che si possono aprire per le imprese e quali sono gli strumenti che mettete a disposizione per sostenere questo tipo di operazioni? Io faccio parte proprio della direzione Corporate Investment Banking di Bipper all'interno della quale c'è un dipartimento che si occupa del cosiddetto M&A di fusioni ed acquisizioni quindi noi certamente possiamo fare consulenza sia lato venditore che lato compratore possiamo stimolare processi di aggregazione possiamo anche ovviamente finanziare le acquisizioni da parte del compratore nei confronti del venditore certo nei momenti ciclici come questo un pochino di flesso o di stasi il tema delle M&A è forse più ricorrente però dobbiamo anche renderci conto che non è facile poi aggregare bei gruppi storici gruppi familiari italiani e non è neanche facile per esempio attrarre l'interesse di fondi di private equity non perché questo non sia un bellissimo settore perché lo è ma è un settore molto ciclico che è tipicamente una diciamo un minus per chi opera nel settore del private equity noi quindi ci siamo possiamo stimolare delle aggregazioni peraltro negli ultimi anni diciamo che sono state fatte autonomamente delle operazioni molto importanti se penso ad Arvedi con acciai speciali Terni più recentemente Marcegaglia con Ascometali in Francia altra bellissima operazione tutte e due e che tra l'altro verticalizzano e ampliano diciamo il posizionamento di entrambe le aziende ma le cito due pubbliche poi ce ne sarebbe anche qualcuno adesso tutti quanti stiamo guardando con molto interesse a cosa succederà a Piombino al progetto di Metinvest insieme a Danieli piuttosto che altre situazioni analoghe poi all'estero è nota la situazione di Celsa che è l'azienda spagnola che probabilmente potrebbe mettere in vendita tre asset molto importanti in Norvegia, in UK e in Polonia mi sembra dove hanno proprio dei plant molto molto significativi. Ecco la nostra ambizione, la nostra speranza è quella di essere al fianco delle aziende italiane quando anche valutano questo tipo di operazioni sia in logica di advisory che anche in logica di finanziamento. Un ultimo flash sulla politica monetaria. Secondo le previsioni di Biper quale sarà lo scenario nel breve termine per quel che riguarda i tassi di interesse? Ci sono stati due interventi importanti sia di Fed che della BCE recentemente. Fed addirittura ha fatto scendere il costo del denaro dei 50 basis point e questo è un fatto. L'intervento successivo di CE di 25 basis point è un altro fatto. La politica di BCE è piuttosto chiara però. Cioè finché non viene raggiunto un livello di inflazione in Unione Europea stabile al 2% non aspettiamoci chissà quali tipi di interventi. Però non ci siamo lontani da questo 2% ad agosto. Il tasso di inflazione era al 2,2%. Quindi se da una parte bisogna essere prudenti dall'altra anche ottimisti. La curva dei tassi forward già è molto ottimista perché se la si va a guardare ad esempio nell'arco di 14-15 mesi se oggi un Euribor a 6 mesi sta nell'intorno del 3,70-3,60 o giù di lì dopo 15 mesi è visto scendere di 100 basis point o quasi. Quindi l'aspettativa è di un costo del denaro in riduzione, non una riduzione così repentina. Secondo noi non si tornerà mai più a livelli come li abbiamo vissuti qualche anno fa di tassi zero. Però un contenimento del costo del denaro è atteso, è previsto anche dalle curve dei tassi e trova una serie di giustificazioni e motivazioni in quello che abbiamo appena detto e aggiungerei anche nella volontà che sicuramente c'è da parte dell'Unione Europea di da una parte contenere una spirale inflattiva ma anche dall'altra di sostenere una ripresa dell'economia di cui tutti quanti abbiamo sicuramente bisogno.